Con l'amministrazione comunale abbiamo avviato il dialogo e data la nostra disponibilità a concordare soluzioni mirate a rivitalizzare il tessuto economico della nostra città. Il centro storico rischia la desertificazione se non verranno fatte scelte urgenti e coraggiose. Queste le affermazioni del presidente della delegazione comunale Comcommercio della città di Caltanissetta, Michele Lorina, in merito al futuro delle attività commerciali del centro storico Nisseno. Si preannuncia infatti a tal proposito un incontro per discutere e confrontarsi sulle possibili soluzioni e proposte con l'amministrazione comunale, così come confermato anche dalla vice sindaca grazie a Gianmusso, ribadendo l'apertura al dialogo. Il nuovo direttivo infatti sta concentrando la propria attenzione sulle criticità del settore e da discutere con gli organi competenti. Siamo pronti a scrivere una nuova pagina di sindacato, esclama Lorina, al servizio delle imprese del territorio che continuano ancora a fare conti con le grandi difficoltà che soffocano i comparti del commercio e del turismo. Parla di un gruppo dirigente ecoese qualificato, il presidente Lorina, quello che guida la delegazione locale della Comcommercio Caltanissetta e Enna. La realtà ennese infatti ha esteso i suoi confini creando una rete associativa con gli imprenditori di Caltanissetta, non per annettere, sottolinea Lorina, ma per costruire. E dopo la pandemia e l'aumento dei costi diventa cruciale parlare di unione, ma è come adesso importante che la categoria dei commercianti sia unita sotto legida di Comcommercio, sottolinea il presidente Michele Lorina, affinché si possa dare voce alle variegate esigenze, si abbia un unico e qualificato interlocutore con la pubblica amministrazione e si possa affrontare compatti e solidali alla fine dell'emergenza.